Così almeno incontriamo anche questi due tipi ogni tanto O ci mettiamo proprio contro di loro Eh no, se lo facciamo ci sento contro di loro Ti sento continuamente a scatti Se lo ammazziamo ci mettiamo contro di loro Sì, anche io nata, ti sento sempre a scatti Adesso no E quando te lo dico? Me lo dici pochissime volte Eh no, ieri cazzo ti sentivo a scatti Eh ma me l'hai detto una volta Ieri non una volta Eh, ieri non una volta Porco c'è Cioè si può avere un grinder che fa il 40% del lavoro Il resto devi farlo a mano Eh no, ne faccio solo anch'io Cazzo, devo prendere il baratto E ne rinasconderlo Eh, tu se quel grinder lì ti fa il 100% Magari il 98% Ti lascia qualche resino Sì che ho notato è veramente la resina Questo grinder, mi fa neanche un po' Eh ma devi metterla via Tutte le volte che continuo a girarti Arrivo sempre lì a casa Me lo becco lì nel letto Che è lì girato Cioè a sto punto di lante Conviene usarla per quando fai sulle canne Che staremo sprecando chili di resina Un piccarregamento di forno Ma diranno oggi ho litigato con uno sbirro Ma non ti sto ascoltando Che io sono andato a prendere il barattolo Eh oggi ho litigato con uno sbirro Ah, perché? Mi ha in mente questa stazione Nelle scale praticamente Cioè dove c'è il corridoio Dopo le scale per salire nei treni Belli I binari Eh sì, è benissimo la stazione Sì Mi ha in mente che non si può fumar lì sotto Ah, oddio Stavo guardando gli orari Arrivo a sto qua in borghese proprio Vestito normale Tira fuori il tesserino della pulizia FFS Mi dice che non si può fumar lì E mi dice Ma è bello che mi ha proprio detto Ma è bello che mi ha fatto male Mi fa Non puoi fumar qui Ritornatene subito sopra Poi non mi ricordo cosa mi ha detto Altre cose così Gli ho detto che appunto Stavo guardando gli orari al treno E poi niente Si è stati tipo lì Litigare 15 minuti Fai 15-10 minuti Perché appunto Io continuavo a dirgli Che quel treno era soppresso Ma gli diceva di no Perché dovevo assolutamente Andare a fumare su nei binari Guarda, mi ha notificato Cazzo di partito Aspetta che sto E' intratto già adesso Si Ricordati di cambiare squadra in lobby Eh ma iniziamo a vedere dove vanno loro Eh, dobbiamo aspettare che si buttano loro Aspetta che devo provarci a chiamarla no Oh squadra 2 Eh, fallo quando ti vuoi Devi prendermi un pacchetto di cartinello Sì, è uguale Eh, ma non abbiamo guardato dove si buttavano Si sono buttati ora Non l'hai visto dove? No, eri tu Perché ti sei bu... Perché è venuta la nostra squadra quello? Perché non vuole morire come un poverazzo No, l'ammazziamo male invece Sono al ponter Quindi tu dovevi atterrare comunque Eh? Dov'è che vanno? Boh, non è davanti a mia tua va Dai, oh ma è tutto bugato Cioè, tu lo vedi il mio personaggio? Guardalo Lo vedi la godda? Boh, non è normale È normale, da me è proprio la cosa Tipo che si allunga Cioè, boh Cioè, proprio Ma che schifo Voglio cambiare personaggio È una cosa orribile È da un mega fastidio Comunque non hai visto dove sono andati? Sono andati verso qua Oh, borgo Però magari erano ancora in aria Adesso e stanno tornando dove si annoia No, secondo me no Che orribile è questa cosa qui Che ha buggato la skin Che vi ho fatto è bellissimo Ma ne hai deciso uno? Ah no S'ha suicidato Cazzo, ma perché adesso? È arrivato una... Nicola, aspetta Так... Так... Grazie. Ciao. Stiamo giocando a sto gioco perchè... quel gioco... eh... continuo... non... non si può giocarlo. C'è adesso. Ciao. Se vuoi prendi tu su le mie chiavi. Sì. Come arriva con Tony? No. No, non l'ho capito. Non me l'ha detto nessuno. Eh, scioglio. Ah, è vero che allenamento ho detto. Per cosa? Eh? No. Ma non penso che faccia. Bella. Le prendi su le chiavi? Bella. No. Eh... Oh, è nata. A sto punto, cioè, io quitterei a fare una coppia comunque. Eh, boh. No, però io mi sono anche invitato a Tony così a cavolo. Eh, il mattino, però l'ho capito e te l'han detto ma non l'avrei ascoltato. No, non me l'ha detto nessuno. Eh, io l'avrei detto subito, no, eh. Ma cos'hai contro Tony? Ma fa sempre un botto di casino, porco dio. Minchia, vuoi imparlarvi ste? No, ste non fa casino, è sempre zitto almeno. Tony continua... ...a urlare... ...comunque non so se hai visto cosa sto facendo per cercarli. No, sto facendo solo io. C'è devo finire la prima. Ah, vera che stanno facendo... ...e devo farcevo. ...che spiore cosa sto facendo per cercare... ...quick... 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 ...continue... ...fichrani... ...quick... 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 Eh ma man, sai cos'è il modo per trovarli, trovare quel cecchino? O cambiare squadra, quel cecchino che individua in mente, da lontano, o cambia squadra, eh dovrei però aspetta che sto facendo squadra, sì ma secondo me sono quitati, cioè dopo la costruzione in alto che ho fatto avrebbe almeno sparato, o forse sono a pinnacoli, cosa provare? Perché di solito vanno tutti a pinnacoli, se sono con gente che non conosce veramente Ma io l'ho visto bustarsi là Eh appunto, io sono andato verso quella direzione perché me l'hai detto tu bro Mentre non tutti i trampi che puoi trovare Oh fanculo io mi posiziono qui così, faccio su e poi lo vado a cercare Ma Nicola dove cazzo è andato che ti ha rubato le chiavi di casa? È andato da Joy Ah te glieli do allora Sono a pinnacoli Ben Eh lo sapevo Comunque te li do allora Cioè glieli da Grammi stancati Cioè ma Dylan veramente, guarda che fa ridere, ora ti invio la foto Anzi no ti faccio direttamente un video Delle varie, lo mettono in gruppo Le costruzioni No 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 no, altra che costruzioni qui Quali? No ma è proprio un bug della skin Ma lo so che continua a staccarsi Eh ma il fatto che appunto se si staccherà mi sarebbe più normale Cioè qui sembra proprio una sorta di nascondiglio, guarda adesso lo invio Eh Natale preparati che andiamo a feitarli velocemente che voglio fare il culo io Eh ma io sto facendo su, tu no Eh io ho finito, l'ho già fatto Ah madonna Ci ho messo due ore a trovare un filtro Hai guardato il video in te Guarda che da fast video in partita Lancia ragazzi Va bene se tieni tu le... le armi Cosa? Se tieni tu... eh scusa le cure Ma guardate che non penso Comunque l'hai visto allora? No Natale non lo guardo, lo conosco già Eh ma cazzo non ho un pompa normale cazzo Un tattico bianco Se vieni a un bolt action comunque Eh ma tu dov'è che sei? Ma perché tu non sei nella mia squadra? Ah non lo so avrei sbagliato tu quando l'hai ricambiato Ah uno Eh Adesso non sai in che squadra eravamo Ma è vero eravamo nella natura No ma tu adesso vai la propria pinnacoli così senza armi Da loro Ma solo ho cambiato la squadra Eh sì ma in senso ti... ti toglie il loot Eh? Ti toglie il loot comunque cambiando squadra Eh lo sto riprendendo Ah ma non sai chi no L'ail bolt action o no o terror l'ho capito? Eh io no Eh vieni però cercate uno cazzo Cercate un distributore più caldo Eh ma io non l'avevo No no fai il culo Ma appunto prendilo che adesso io vado a luttare Cioè è uguale Mi vado ad ammazzare intanto Eh stavo andando giusto a prendere il lama che ho visto giù qua Per appunto trovare un trampo Più che spavesso Eh? L'ho shuttato Merda è vero non l'ho più scudo adesso che ho cambiato la squadra Ma non hai cosa anche per me? Che cosa? Eh tipo piastre No più che altro è che mi interessano sono i trampolini Eh trampolini zero appunto Ho sei piastre Quattro trappole e sei falò Eh fai una scala e cerca dei lama Sì è micidiale eh Comunque da quando hanno fatto l'aggiornamento A me continua a non costruire Proprio mi fa il suono come che piazzo Però non lo fa tipo lag Man se ci spaccano tutto Aspetta aspetta che se ci spettami Bro Se ci spaccano tutti so che tu hai le piazze Ma guarda lì io che cazzo ho costruito Che se ne sono fregati Cazzo stavo per cadere C'era la corsa attiva Attiva Fai guarda lì Guarda lì intanto Ehm Ehm Vabbè Ehm Eh ma lo faccio C'era Ehm Eh Io andiamo Eh Dylan io sto andando a pinnacoli così Un lama lo troverò Ma che mai ha premuto R2 Ma tu come sei messo in armi? Che io ho un tattico bianco Eh Io ho un R blu L'olimpio verde La La machine gun Blu Chi è sto qua? Poi del C4 che sto sprecando come un coglione Oh ma non lo toglie eh Non lo distrugge il lama Oh ha trovato un trampo Un airdrop lì eh Guarda te Dove? Eh vado io Tu vai nel lama Che sto per puntare Qua Lo vedi guardando lì lo vedi Ah si Che io neanche ho un R Oh Niente di meglio Cosa hai preso? Cosa hai trovato? Ho trovato un lama Dai ti sei schiantato proprio tu anzi Sii Oh Dio ogni volta che sento quegli spari ogni volta Oh ho trovato un'altra lama Eh lo so Ok trampolino Eh io ce l'ho il trampo Solo che appunto volevo un vault E non trovo Approvvigionamenti lì Eh andiamo e andiamo addosso Ora Eh Andiamo ad uccidere o no Che mancano 40 minuti Eh si Aspetta veloce il capro qui Niente Cazzo proprio Eh dove sei tu? Eh un cazzo Ehm Son dietro di te Di me se vuoi andare tu trampo Eh io si Ormai io ho tre armi Non trovo un cazzo Sto cazzo di partito Eh dai questo ti nota No ma tieni Ma tieni tieni io Questo qua e questo Hai bisogno proiettili? Eh si Eh ne ho domani Ero convinto di averne un batto Però ne ho domani Cosa sta cazzo di trampolino? C'è tra l'altro appunto Ho aperto un lama Ne ho trovati tre di trampolini Eh Eh io ho due Ne ho Ah è vero Io adesso che guardano Non ho una R Ma intanto Sto sicuro di C'è quello di Io c'ho una R Blu Eh vai 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 Sto sotto trampolino Eh ma l'altro punto di lana Riatterriamo su quella collina Eh lo rimetto No È intanto tu guarda Se magari non è già giusto Guarda lì delle scale Dai ma te li ha sprenato Che farà un'arcava così attenza Dove cazzo siete andati? Comunque ma mi ha messo Un mira automatica Su di te Sì quello lì L'ho notato anch'io Quando mi sei passato davanti Proprio Sì sì Proprio quando tu mi vieni vicino Proprio che ti cambia L'intera visuale Te la sposta cazzo Aspetta un attimo Ma quello lì è un nemico Man Guarda qua Cosa? Cosa? Dirà niente Sono quittati Perché? Probabilità del 70% Che siano quittati Perché appunto Quando ho detto Vedo qualcosa Io sto sparando Un nemico Che è appena sparito Però Sai che Non lo so Magari era poi Un errore di texture E siccome l'ho colpito A punti Ecco dopo Com'è la zona? Non sono arrivato a Pinnacoli Non sono quittati Non sono quittati E sono Non sono quittati Man Sono qui Dove? Ah è vero Ehm 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 Guarda ora Si incazzerei un botto Sono lì? Sì Ma che errore ti figgio Ehm Ma che prende? Eh pacco Però che devo sprecare Le mie due slurp Così Tu non ce le hai dei mini scudi Ne? Eh no Eh la teniti in assurdo Ma non hai cure? No È degradante il fatto che tu non abbia cure Qualcun emotivo non ne hai presa Perché non lo trovate Qualcun emotivo non è che un R Qualcun emotivo non ne hai trovate? Oh andiamo allora a prenderli Veloce Andiamo a prenderli un trampolino Oh se no fallo te Muovi ti fai veloce però Cioè sali sali Fai così Perché se no cambiano ancora loro Man guarda che stai usando il ferro Dove colpito il scompatto Oh vado Sì 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 Ah ma guarda che Vedo li vedo Guarda lì là Guarda lì là Ma che gliele buttiamo giù Vabbè Mi ha dato la kill ma si è suicidato Sinistra un altro Sta laggando di brutto Sta laggando di brutto Si teletrasporta Io vado a prendere il loot di quello Mi ha dato col cecco Oh di lante si teletrasporta questo eh Non so se sto usando Sì sto usando sicuro Lo switch lagg È una cosa micidiale Adesso io dovrei lasciare questo Sembra che è dei poteri No già sta volando Sì sì ma quello lì Ah no gli fai danno L'ho ucciso L'avevo anche intratto Comunque il loot a sto qua l'ho rubato Non accade che cosa Qua c'è un bolt action Poi boh un proiettile Cioè prenditelo tu Cioè io c'ho tutto Mi scusi non li pigli te Tiro su io Eh boh si riprendo io Eh tieni questo in l'orange Ok What? Ma dove sono però? Eh se la saranno schippata Sono devastati in una Oddio se laggava Ha tolto il disturbo Guarda in alto Era una cosa Oh è qui Quindi è micidiale sta arma Comunque Cioè ho sparato 8 colpi In tipo mezzo secondo Tra l'altro non ho neanche sentito Io il rumore di 8 colpi Però va bene Oh niente erano un abissimi Ora che li abbiamo distrutti Sanno scappati in un altro posto No invece Ho sentito dei passi vicino Chi hai sparato? No ma era la mia impressione del cazzo Ha quitato Ha cambiato squadra Ah ma fu qualcosa Era in aria ancora No 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 Io ho sentito dei passi vicino Ma andiamo andati bucciati di gioco Senza parlare Non puoi Ah cosa che stai dicendo Che sono andato È inutile se non sei nella tua squadra Ok Che stai dicendo Va da vedere la squadra Ok E' trovato? Non hanno citato Perio? Che tristezza E' trovato quando sei dead by light è ancora... da giusto di... comunque ti ho detto qualcosa d'ellis cosa? di giocare? eh? ah è vero aveva chiesto se giocavamo con lui oh oh sei stato tu? si ho sparato in no scope mentre mi cadevo dalla mia costruzione oddio ho mica le formiche ai piedi nooo sono un deficiente cioè mi hai spaventato col colpo del lanciamissile e allora non ho costruito in tempo la scala sotto sei serio? eh si ma proprio perchè appunto in mente quella cosa che faccio mi giro veloce costruisco la scala sotto e piazzo la roba eh niente hai fatto quello mi hai sconcentrato quel millesimo di secondo e è andato tutta puttana il caso è nel mio loot non te l'ho preso eh eh cosa non me l'hai preso? dov'è il resto? ero qua dentro eh ah è vero è vero che stiamo assieme comunque mi hai preso il cecchino e la mitragliatrice no è impossibile ah questa colpe di cecchino comunque e la mitragliatrice no ma te lo date i colpi di cecchino è vero si hai dato altri colpi di normali no ma ne ho 200 adesso ma non vedi lì che stiamo ma ne ho preso io di cecchino ah ma no son qui dentro la trappola ah ma è tutto buggato dentro la trappola anche la pistola tamburo adesso l'ho presa era proprio dentro la barriera no non mi modifichi le mie costruzioni ahahahah Ma adesso che hanno fermato i materiali, cioè nerfato i materiali, ora basta proprio un colpo di cecchino per discutere cosa. Ah no, solo quando è in corso funzione. Ma che siano utili gli scudi. No, 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 no. Comunque no, non ho piastro, ho sei trappole, un trampolino e cinque fallo, poi inutile che me lo spacchi. Oh no. 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 Non lo sa, mi ha invitato al parco Nooo, non so che l'ha invitato, cari dopo Eh boh, così alla fine ci vedo, sto facendo credere però Eh, è figo, no Provevo a fare la gara a chi costrisce il prima possibile L'ultimo che ci arriva deve dire stop Perché è arrivato dal C Si va bene o no? Però bisogna colpire i bazooka Si va bene o no? Che è? Eh, questo è quello che vuole Eh, questo è quello che vuole Sì, ma era uguale Sì, è vero Eh, ma va bene, 999 di legno serve di più Non lo so Vediamo così Eh, dai, eh Quando arriva a 5 Eh, è pacchissimo Ne ti ho battuto No, ho sbagliato, man Sono un coglione Cioè, hai visto? Mi son suicidato in un modo anche di skill proprio Per avere l'ultimo secondo Per avere l'ultimo secondo Ho spaccato L'unica cosa che poteva salvarmi Il resto penso sia caduto Allora, dimmi tu cosa vuoi fare Cosa faccio la fai? Oddio, sei rischiato Ma perché mi ha laggato, eh? No, non fare la merda Cosa vuoi fare? Eh, è una cosa nuova Eh, è un... è una cosa nuova Allora Eh, è un... è una cosa nuova Allora Venga Bisogna far così Questa è solo dimostrativa E' un po' la sopra Eh, tipo Chi arriva primo E bisogna andare in giro così Facendo Uno su, uno così No Vabbè, hai capito? Eh, sì Ti pare? Non c'è accaduto prima Ma c'è accaduto solo in dimostrazione Eh, ma a me è nascolta Bello Eh, fino a ne un po' fatta la sfida Perchè è una cosa che deve avere La sicilità della madonna Per continuare a girarti veloce, proprio Proprio una in su e una in giù Così Non puoi fare anche un po' il piatto Vai, eh Quando... Partiamo quando... V... ora No, ho sbagliato Eh, io so Nooooo Bello Cirru bolloso Cirru bolloso Cirano è impossibile Ci vuole una... Devo rialzare la sensibilità Cioè... Ma alla fine è infattibile Perchè comunque basta fare quel gioco lì Ma è proprio una cosa che Dopo ti diventa meccanica Alla fine basta girare Continuare a girare Eh, appunto La fine è una cosa meccanica Lo confronto anche se lo fai bene Eh, però adesso passa a livello difficile Sai qual'è? Ma qual'è? Questo Praticamente bisogna fare... Tac 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 Ah, che cazzo sto facendo? Aspetta così, guarda Tac No, ho sbagliato Ah, fai un muro poi Eh, veramente devi fare il muro Eh, ma ci vuole Tac Eh, ma... Ma continua a cadermi, porco Dio Fal salto troppo lontano Ma come fai... Cioè, in che senso fare il muro? Ah, ma dopo lo fai il muro? Sì, non lo fai... Boh, fanculo di me Eh... Ha un trip Sì, per fare la cosa di prima comunque è solo appunto una cosa meccana che ne è pensata Ma te lo vedi uno che ti lascia così? Cioè, io adesso sto guardando tutto da lontano, eh Eh, tu stai sbagliando un po' Come sto sbagliando, serio? Eh, fai... fai doppia scala ogni volta quando... Come mi parlo? Ma che cazzo? Cioè, non lo vedo nemmeno io che fa la doppia scala Eh... L'ho visto dopo? Eh... Oh... No, che cazzo fai? Eh... E' tempo del massacro Poi non hai neanche più le mie armi per colpare... Eh... E' qui io? Eh... Grazie mai... Grazie. Oh, mio Dio. Cattivo, lui. Minchia. Ah, no, 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 mi ha tolto il cerchio, continuavo a cliccare R1, continuavo a speciarmi arma. Mi avresti killato malissimo, volevo piacciarti la trappola per quando cadevi sulle scale, però appunto non era tuo il muro, non potevo. Oh, non ho ancora la mia armida, perché vedo tutto baggato, che praticamente se mi romputo fatto da me ho il cerchio della modifica al massimo, già. Ah, quello lì sì, mi succede anche a me, sì, a me non dovrebbe darti problemi. È un po' fastidioso. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no che fa schifo? Buon appetito. No, dai, porco dio, sto controllo, è un controller di merda, perché non sapevo se mi avevi visto, no, non sapevo cosa fare E alla fine ti ho visto, perché appunto ho preso il tuo trampolino, ho fatto il giro di tutto sto coso, e poi ti ho visto che ho deciso da camperare Eh, ma io ti avevo visto, eh no, ma perché ho usato il trampo, facendo il giro l'arco, eh ma ti stavo guardando, l'ho sentito che stavi usando il trampo Eh, non hai visto che sono atterrato proprio sopra di te, sopra sì, ma non ti ho visto passare, cioè da sopra, ma hai fatto vedermi Eh, appunto, eh ma ti ho visto da lontano, al giro da lontano Siete, dove sei? Siete, dove sei? Siete, come? Mi piace, dietro Nata, è bravo, vai Ah, ho appena ho visto a casa, è tornata Ma sei veramente a tometo perché ho sentito a spari da destra Man ma non sei Tometo Ma cosa no? Minchia ho risparato di nuovo per farti sentire Sono dietro la casa Si l'ho capito ma non è Tometo Cosa no? Non è Tometo Una volta che diciamo andiamo a Tometo Tu vai alla casa Non ci valore così Ma io lo so che tu c'hai un Voltaxion che mi stai mirando No, non ho Io ho l'Olympia Blu Una mitragliata viola Un Red Blu Due Granate Che si è? Che cosa si si te lo giuro No, no sopra Un po' più di me muovi Eh? Vai un po' a cercarmi Che ti sto cercando Qua sei lo zidecchio dove mi hai visto l'ultima volta Che cosa? Lo zidecchio dove mi hai visto l'ultima volta Un po' Eh? Si cerca No, non lo so Non mi va di passare la partita a cercarti Dai Eh vai Non mi uccidere però Vai in strada Vai davanti alla pizze Cioè non andanti a pensare davanti al benzinaio Ti dico ancora Mi stavo andando dall'altra parte della mappa Mi sa che non ci arrivo lì Mi ero a tua metro, ho tu detto Riprendo il coso Ah ma mi hai detto l'ultima volta dove ti ho visto Eh io ero a tua metro eh Ma tu non mi hai visto? Eh no, l'ultima volta che ti ho visto io era appunto lì Ma si ho visto che hai costruito quando eri davanti alla casa Ah lì ho costruito giusto per appunto salire e cercarti Io pensavo che mi avevi visto Ero lì davanti a te No Ma cosa? Guarda dove è solo Ti vede ancora Eh ma scendi Ti ho detto davanti al benzinaio Dai In degrado Dai Pronti Partenza Via Non so neanche che arma ci ho equipaggiata Non ho materiali Non ho più materiali Ma come faccio? 55 in testa Eh ma dai Eh ma io non ho materiali Eh ma che cazzo Non ho materiali Sei la mia figlia di voltaia tu Eh ma Cioè che cazzo Dove eri? Ma dove cazzo eri? Non ho visto eh Dove eri? Ho fatto così Cioè sembrava che Non so un bug Tipo che eri sottoterra No ma nero qua Dove sono adesso? Aspetta che sto atterrando Ma cosa? Sì Dove sei? Ti ho visto minimamente Poi ero convinto Ero qua Ero qua E tu ti stavi buttando da lì Eh ma io ero convinto Ma ho fatto una svicciata Mega figa Ti giuro È stata una cosa che Cioè Proprio non ti ho visto Faccio il video e Grazie a tutti